Dati incoraggianti, quelli che fotografano l'incremento del numero di visitatori che nel 2014 hanno scelto la fortezza di Civitella del Tronto, oltre 39.000 agli ingressi, il 9,7% in più rispetto al 2013 e circa il 12% in più rispetto al dato del 2012. Sì, sicuramente incoraggianti e soprattutto anche da quelli che sono i nostri dati e quelli che sono i dati dei beni culturali in controtendenza a livello nazionale. Si è registrato un più 10% rispetto al 2012 e il 2013, quindi insomma sono dati molto confortanti. Aumentano gli accessi in fortezza, aumentano così gli incassi, oltre 162.000 euro quelli realizzati l'anno scorso, il 16% in più rispetto a due anni fa, quando a gestire la fortezza di Civitella arrivò il raggruppamento di imprese Integra Pulcra. Assolutamente sì, questo premia una politica nostra di comunicazione volta alla conoscenza della fortezza e di tutto il territorio vibratiano, soprattutto nella zona abruzzese e marchigiana, ma attraverso i canali internet che sono quelli che adesso vanno per la maggiore. Dalle analisi statistiche condotte a campione sui visitatori emerge che per il 93% sono italiani e per il 7% stranieri. I connazionali provengono per la maggior parte della Lombardia, seguita dal Lazio e dall'Abruzzo. I visitatori dichiarano di essere venuti a conoscenza della fortezza principalmente attraverso il passaparola ed internet. Credo che facciano attestare Civitella del Tronto nelle primissime posizioni dei musei più visitati d'Abruzzo a pagamento. Dal nostro insediamento abbiamo subito pensato a un'identificazione della fortezza con un logo, ciò che mancava. Abbiamo creato un logo, abbiamo creato uno slogan, storia e fascino d'Abruzzo. Ma per mantenere in vita la fortezza servono risorse importanti, basti pensare ai costi per la scala mobile. Le dico soltanto un dato che potrà essere quello più emblematico. Abbiamo la famosa scala mobile che porta fino alla fortezza e ha un costo solo di corrente elettrica e di manutenzione che tocca quasi 7 mila euro al mese.